Ciao a tutti ragazzi siamo noi della The Grado Family e oggi video recap del super pre-release di OP02 queste qui sono le promo, abbiamo partecipato io e Trinky, questi qua sono i due smoker e quelli lì sono due buste che contengono due comuni, cioè una comune e una non comune con scritto super pre-release sulla carta ma penso che rimangano sigillate perché non ce le facciamo un cazzo, vero Trinky? no niente allora io ho fatto tre vittorie e una sconfitta e mazzo dai ho usato come leader Kid ovviamente perché tanto alla fine era il generico più forte infatti praticamente tutti lo usavano praticamente tutti usavano questo leader e allora cosa abbiamo trovato? è stata una bella sorpresina diciamo allora io ho fatto 3-1 appunto come vi ho detto e Trinky invece è anche 3 anche te hai fatto 3-1 3-1 quindi non abbiamo vinto la winner purtroppo io ho perso contro 1 perché nelle vite come ultima vita ha pescato l'evento quello da 3 che da più 6.000 assurdo culo incredibile sennò avrei vinto però vabbè poi probabilmente avrei perso in finale quindi parliamo di niente allora prima iniziamo a incollerare allora io ho trovato allora Hell's Judgment, Judgment of Hell, Mr. 3, Masked Use, Carrot che è stata fondamentale perché c'era il discorso del Counter 2000 poi Yamato, Jozu che ne ho trovate due e la cosa bella è che le ho trovate insieme Carrot e Yamato le ho trovate insieme ogni volta due bustine su due erano insieme Smoker è incredibile un'altra Carrot, Sadi e appunto Jozu che le ho trovate sempre insieme alla Carrot Mentre queste qui intanto le mettiamo via, The Tring ha trovato allora Hannibal che non è giocato infatti non è nella busta protettiva Bug è uguale Idem perché non giocavo Barba Bianca sì perché c'era uno che lo giocava ma bisogna essere un po' folli per giocarlo cioè è una vita in me insomma non è molto conveniente diciamo poi Vista, Garp, Brook, Ina, Kobe è fortissimo questo qua quello ancora più forte questo qui cos'è? Joker 7000 quando entra puoi giocare un film dalla mouse che avevi giocato i comunazzi c'era Brook e altri comuni e Shiki che era un Counter 2000 che aveva anche il trigger di essere giocato facendo a meno uno volendo quindi e queste qui sono state le rare ma io so che voi volete vedere i pezzi forti madonna questa quella questa Venom Road troppo ingiocabile fa merda e allora ecco cosa abbiamo trovato iniziamo con quelle che hai trovato te Trink sì non è che ho trovato chissà cosa allora in sei buste quindi dodici perché siamo in due al Trincon ha trovato Kuzan bellissimo super giocabilissimo si gioca nel nero fortissimo lo mettiamo qua guarda poi è uno dei miei personaggi preferiti troppo bello infatti spero di trovare quando arriveranno i box perché noi attendiamo i box sperando che arrivi una bella alternative Kuzan secret e stian da dio no ma anche quella si sono tutte e due sarebbe epico poi abbiamo trovato Kozuki Oden questo qui fortissimo e per montare il verde che sto testando me ne serviranno quattro eh ce ne mancano tre adesso quindi adesso ce ne mancano tre però bisogna ospitare che hanno i nostri maledetti box poi abbiamo io invece adesso tocca a me io ho trovato Sakazuki fortissimo che anche questo qui è fortissimo è stato anche molto utile qua anche se l'ho pescato solo in una partita che è stata poi quella che ho perso assurdo quando viene giocato scarti uno dalla mano e spacchi un 5 meno quindi questo qui è fortissimo nel nero perché a parte che spacca già un 5 che è una cosa altissima è praticamente un king più forte si king spacca un 4 solo che qua 3-1 devi scartare una carta invece che far don meno 1 qua 3-1 è molto più forte don meno 1 che scartare però qua se c'hai in campo Kuzan quello da 10 puoi spaccare un 10 puoi spaccare tutto perché nel tuo turno Kuzan dà meno 5 puoi spaccare per 6-5 quindi fortissimo ma ora ecco il pezzo forte sbustato da me ovviamente ma prima sigla no allora adesso c'è il pezzo forte che ho sbustato un'altra cosa assurda che era una delle cose che speravamo effettivamente di trovare sì questa che è questo che è questo Ozu Junior è fortissimo costo 7-9 mila mio padre no scherzi a parte copriamola però avrete già capito dal barbone mio padre monkey di gar il mio è orso questa carta qui è bellissima il leader vabbè è un po' me però il leader non tanto giocabile è molto meglio Zephyr è più che altro perché ha 4 vite anche no vabbè dei 2 dai meglio questo meno un po' di Zoro Rush secondo me è più forte che voi no è molto meglio Zephyr abbiamo pareri diversi però garp guardate che bella questa carta qui l'alternative art leader bellissimo ho messo subito in busta nell'album tanto non avevo intenzione di giocarla perché è un leader secondo me mi metto a giocare garp e quindi resta qui va bene ragazzi questo è stato il recap generico del del super pre-release di OP02 mi raccomando mettete like se magari volete iscriverci se volete avete partecipato come va andata e niente adesso aspettiamo i box e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti